Ciao ragazzi! Finalmente, 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 basta con questi youtuber falsi che mettono titoli clickbait, che si comprano gli iscritti e che fanno video idioti e hanno centinaia di migliaia di views, sfruttando la moda del momento. Adesso, finalmente, da qualche giorno a questa parte, non è cambiato niente. No ragazzi, non è cambiato nulla. Mi dispiace dirvelo, ma il livello medio della community di YouTube è rimasto esattamente lo stesso di un mese fa, con la stessa stupidità e forse un pizzico di cattiveria e presunzioni in più. Avete capito tutti di chi sto parlando. Ora, io non voglio commentare i video di questa persona, perché sinceramente non voglio andarmi a infilare nel flame. Vi dico solo che ho trovato quel canale divertente in alcuni casi, ma solo per quello che è, c'è un canale di gossip. Io non penso neanche lontanamente che sia un canale che vuole davvero tirare fuori il marcio di YouTube, ma piuttosto un canale che vuole fare views semplici e ha capito che il modo migliore di farlo è quello di parlare di YouTubers già famosi. Per quello che mi riguarda, penso che sia un progetto molto più costruito di quello che vorrebbe far sembrare dall'esterno, ma se ho ragione, appunto, sarà il tempo a dircelo. Comunque, una cosa che mi ha dato veramente molto fastidio di questo canale è un video dove questa persona praticamente fa uno sfottò a un ragazzino di 13 anni, che fondamentalmente fa un ragazzino di 13 anni, cioè un canale dove più o meno bene fa vedere qualche video, qualche cazzatina, qualche challenge, eccetera, eccetera. E vorrei dirlo, appunto, ai diretti interessati, ma mi farebbe piacere che ci rifletteste anche voi. Quindi, caro YouTuber, tu che fai un video con uno sfottò a un ragazzino di 13 anni e ne fai vedere il nome e la faccia, non stai facendo l'eroe, te la stai prendendo con un bambino. E a voi 20.000 persone che dopo aver visto quel video avete messo like e non vi siete chiesti che cosa prova questo ragazzino che si è svegliato una mattina e si è trovato la sua faccia e il suo nome nel video di un altro canale. Ah beh, non pensate che solo perché nella presa in giro non ci sono degli insulti diretti, delle parolacce, allora è una cosa innocente e va tutto bene. E alle persone che dopo aver visto il video sono andate a insultare questo ragazzino sul suo canale, voglio dire smettetela di tirarvela, non state salvando YouTube, non siete migliori di nessuno e state solo facendo del cyberbullismo. A questa gente, che sinceramente mi auguro non ci sia tra i miei iscritti, voglio dire solo una cosa. YouTube fa cagare? Bene, per citare uno dei miei film preferiti, ancora una volta, a dire la verità, se cercate il colpevole, non c'è che da guardarsi allo specchio. Grazie.